Il francese Claudi Aigener, pessima parola, non ho mai studiato il francese, questa bellissima, e avrebbe tentato il suicidio, avrebbe tentato il versico di soliferi dell'anno 2008. Però prima di svenire, De Rincoma avrebbe pronunciato una frase che avrebbe levato l'intero interesse della nostra umanità. Sarebbe la seguente, adesso ve la leggerò attraverso il web. La terra deve essere avvisata. Nelle parole di questa donna ci sarebbe il desiderio motivazionale di mettere in guardia l'umanità intera su una eminente mina di invasione aliena. Nel video che dura ben sei minuti, e di cui si è occupato anche il mio apposto di parlarne, c'è il sostenimento di una tesi piuttosto abbrorata, quella per cui la donna che aveva avuto un contatto con gli alieni e che lavorava in gran segreto in laboratorio, cui si combinava il viene umano a quello alieno, sarebbe stata poi messa però a tacere. La donna all'epoca era l'edrice della Cité des Sciences et des Industries, il più grande museo di massa in tutta Europa. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione. Iscrivetevi, commentate, un saluto apprezzo.